Questa amministrazione comunale in appena dieci mesi ha fallito su tutto. Il coordinamento cittadino del popolo della libertà esprime un giudizio profondamente negativo dell'attività del sindaco rossa e del suo gruppo ed esprime la propria posizione attraverso un comunicato indirizzato agli organi di informazione. Le priorità sono rimaste delle eterne incompiute, dice la nota, è mancata una visione di insieme della città, nulla è stato fatto rispetto alle esigenze dei cittadini. Una mancanza di idee di coerenza che si è ripetuta anche oggi, le entrate in giunta dei nuovi cinque assessori dimostra quanto la sindaca non segua più una linea precisa. A inizio mandato la scelta di portare solo sette rappresentanti in giunta era stata sbandierata come un grande senso di responsabilità, abbattendo i costi. Si è salita oggi dunque a nove assessori, un bello scherzo quello preparato da Palazzo Rosso. La nostra, continuano dal PDL, è una critica verso questa amministrazione per l'assenza di progettualità. Anche per questo sono nati i gruppi di lavoro voluti dal popolo della libertà, un modo per tornare a confrontarsi con i cittadini, cercando insieme idee concrete per Alessandria. Bisogna ripartire garantendo i servizi basilari. La manutenzione e la cura della nostra città sono stati in questi mesi assolutamente inesistenti. Ci si è nascosti dietro al dissesto per mascherare la mancanza di idee e l'incapacità di amministrare. A prendere posizione in questi giorni è anche il Movimento 5 Stelle, che commenta i temi del Consiglio Comunale di ieri su l'occupazione, le partecipate e il dissesto della città. Gli alessandrini purtroppo sono malamente informati sulla reale situazione cittadina, dicono i consiglieri comunali del Movimento, e raramente riescono a sentire gli echi delle proteste di chi non ha più la sicurezza di un lavoro e di conseguenza di una vita normale. Alessandria è al tracollo e le strade da poco tempo rifatte che implodendo portano alla luce sconcertanti voragini ne sono l'esempio sconsolante. Non ci sono magie contabili per tornare a essere credibili, basta uscire dalle vostre stanze e parlare con la gente, dicono i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, rivolgendosi direttamente ai politici. Noi continueremo a proporre le nostre idee, i nostri progetti e la nostra visione di sviluppo sostenibile della città. Nessuno sconto o superficialità verrà ammessa e prima o poi pagherete questa ignavia non propositiva, con un severo giudizio dei cittadini elettori.